Senta Presidente, lei durante l'incontro di questa mattina c'è stato un passaggio che secondo noi è fondamentale, quello di Jobsax e di Renzi, che parla praticamente solo quasi con la Confindustria, sono bando altre categorie di lavoratori. Renzi ha rivendicato ieri il fatto che il suo governo ha fatto più di tutti gli altri per accogliere le richieste di Confindustria. E infatti io penso che lui abbia ragione, è stato proprio così. Peccato però che non ha anche ascoltato le richieste dei sindacati a favore dei lavoratori e delle lavoratrici. E questo ha dato risultati veramente poi molto pesanti per il mondo del lavoro, perché come vediamo il Jobsax che cosa ha fatto? Ha tolto diritti ai nuovi assunti, dunque ai giovani. E noi non abbiamo bisogno di togliere i diritti ai giovani, ma abbiamo bisogno anzi di dare ai giovani delle prospettive solide e concrete per poter fare in modo che i giovani riescano ad avere una vita, un futuro e a credere appunto in questo Paese. Quindi aver fatto il Jobsax erodendo i diritti sui nuovi assunti a mio avviso è stato un grave errore. Grazie mille.